Pettinari abbiamo ascoltato alcune testimonianze di residenti in via Rigopiano ma non solo che sono esasperati da tutto quello che accade ormai da troppo tempo, parliamo di soprusi, minacce e tanto altro. Lei questa mattina torna per l'ennesima volta a denunciare quello che accade nelle periferie della città di Pescara. Il focus è su tutte le periferie. Problemi degli sfratti degli occupanti abusivi. In questo momento abbiamo circa 150 abitazioni dell'Ater occupati abusivamente nella provincia di Pescara. Di queste circa l'80% sono detenuti dai criminali pluripregiudicati. Un dato altissimo, cioè che significa che ci sono persone che delinquono all'interno delle case popolari, spacciano droga, questo è il reato maggiore. Quindi utilizzano l'alloggio popolare per illeciti, arricchendosi all'interno dell'alloggio popolare perché riescono ad incassare circa 1.000-2.000 euro al giorno, udite udite, e pagano di affitto esclusivamente 15 euro al mese. Quindi queste persone devono essere sbattute fuori di casa senza ma, non possiamo fare sconti a nessuno e quindi chiediamo di far ripartire i cosiddetti sfratti degli occupanti abusivi. Noi non ce la prendiamo con la povera gente perché ci sono anche persone veramente che hanno bisogno di cosiddetti morosi, senza colpa e quanto a noi ce la prendiamo con i delinquenti, con i criminali abusivi che utilizzano l'alloggio per gli illeciti. Poi c'è il racket del sub-affitto di cui non abbiamo mai parlato e soprattutto in via Ricopiano, sa cosa fanno? Si occupano abusivamente le abitazioni e un soggetto occupa 10 casi abusivamente, una se la prende per sé, altre 9 le sub-affitta e quindi guadagna anche soldi dagli altri abusivi che entrano nel sub-affitto gestito a loro. Quindi il pubblico, il patrimonio pubblico perde tutto, la regione, e loro incassano anche dal racket del sub-affitto che si faceva 30 anni fa a Roma, iniziò 30 anni fa a Roma, ma adesso sta nascendo anche qui da noi, qui in Pescare, in provincia di Pescare e non solo, anche in Regione Abruzzo. Cosa succede nella zona dove lei abita? Succede che se è morta una signora adesso circolano già le voci che vogliono entrare altre persone dentro, però noi abbiamo già chiamato i carabinieri che queste chiave, davanti alla legge, hanno detto che le dovevano consegnare all'istituto e la forza pubblica sarebbero i carabinieri, hanno accettato questa firma che le chiave le consegnavano all'istituto autonome e al popolare. Adesso vediamo se la legge italiana realmente funziona solo per gli ignoranti e onesti cittadini oppure funziona per i delinquenti.